Silenzio più totale, a posto Ma mannaggia Ehi! Porco di quel porco, ma di quel porco che è un porco Porco uno scopo Oh brutta merda, non appoggiattiti eh No! Eh, compi cacchio Eh ma boh però, non sono bravo io Nessuno di noi è bravo Ahia, 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 ahia Eh no ma ancora uno, c'è il 25 e siete arrivato Ma sta grande Eh però Brady si è preso vendetta Oh andiamo insieme, andiamo insieme No, no, il culo Eh vabbè non so ritardato, ma c'è stato di capo Andiamo a coppie, giriamo in coppie E andiamo a coppie Veramente cacchio Ahahah Ahahah Ok, oh non ti puoi appoggiare, zio non si può appoggiare, sta mirando e puntando, mi aiuto Ahahah Ma ancora Quante più spieghi città un po' poxic moririo devi andiamo devi adeguare parare il mio vino non ti puoi appoggiare 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 per i giorni di verità per favore mi chiamai e nel formato sono sempre di poi si si puoi 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 si puo si si con i pugni si puo madonna si è è ma questi che prende la mira nooo schifo nooo le ho fatti 3 di seguita attenzione ragazzi ma che palle lo sto facendo schifo a me no bastardo ho preso vabbè tic a 350 mila giorni di respon giusto per gradire è grande jackie jackie chan con il fisso di non scopo ticca 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 guarda non è esercito ticca no stas 18 Ma la c***o! Ma la c***o! Ma la c***o! È impossibile! Gigi, cosa siamo qua? No! Eh sì! Dai, poi ti faccio un cox, vedo come si fa! Cos'è che li hai? Ti faccio un cox! Sì, un cocktail! Trattieni di Clay, che ti ripeto! Devo mettergli i pip nel video! Minchia, zia, bastardo! Madonna! Madonna, che merda sei! Zia, c'è la dietro! L'esco l'ammazzo! L'esco l'ammazzo, basta! L'ho tolto solo 100! Eh, faccio niente! Ma quello lo fa anche a me! No, finito i golpi! Eh, che si mette in busto! Eh, bastardo! Eh, vedi? Ma dai! Alta! Attenzione! C'è capito che ci giro Fred, li fermo, minchia! Va! No, bastardo! Ma che ci fai altro buono, eh! Zozzone! Oddio, sei tutto sottino! No, perché quello che ha scritto, quello che ha scritto Foxy prima! Attenzione! 12,5 ragazzi! Ma guardate! Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è? È venuto con te! Vedrai nel video, è venuto con te! Io ti vedevo la schiena e tu mi hai ucciso! Ah, mi sposo fa già, fate che scappo! Guarda cagare, quattro! Che sei andato proprio in bocca del nemico! Ma zia dai, tu c'è qualcosa che non va, non è possibile! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahah BOOM per colpizipare! Eh, ecco qui! Quindici sei! Quindici sei! Quindici sei ragazzi! Però un colpo te l'ho dato! Eheh, poi finalmente mi hai colpito! Però due colpi! Due colpi te li ho dati! Ahahahahha E tu me la dai una, mi killi! Micilli Micilli Quello per l'igiene intima No No Gokui questa me la devi spiegare No Ho finito i colpi Gatti ho sparato una coscia Proprio bruttissimo Eh beh oh La ventottesima volta E non è sempre festa Vabbè dai Sei a 1 Oh Questa faceva male Clay Eh sicuramente l'M200 è più preciso Oh 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 Brutta questa No Aspetta Bellissima Bellissima Era cos'è di vita No Ti ho visto Stardo Ho una cattura qua Infatti Catturate voi dai Ragazzi Lo cazzo sono Oddio Aiutami Aiutami di io Iniziale perché c'è il 178 In uno scopo c'è un culo allucinante C'è stato lui un colpo a Michillo mi spiega come fai Quanti è presentato Ti sta bene Oh io non tolta Non so farlo No Spettacolo Aspetta Babu Babu tu stai usando le SR25 non puoi usarlo Che SR25 c'è la SRS c'è Perché mi ha fatto vedere le SR25 25 Che ne so io c'è la SS Oh ma cattura la SS Cattura le web e cattura voi Ragazzi VWF di DT Cattura ma cattura le web e cattura La scopo cattura La scopo cattura Ma c'è una cosa Ma c'è un po' che puoi dire la sigla Perché mi vuoi fare la sigla Ma va Come sta già là Guarda Clive Oh mio Dio Ahahahah Ti ricordo che sei con lo scopo Antinousia Si si Ma non sto sto sparando Io Che c'è sta facendo Guardalo Chi c'è c'è questo Che sei Chi c'è Scopo cattura Mi nascondo Mi nascondo Nooo Nooooo o no no non abbiamo catturato uscite 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 non abbiamo preso come no ma l'abbiamo catturato si dovete uscire vedi che è nero lo sogno uscite uscite dal puto no uccide del zio frank come annaccio cristo non li uccidere non li uccidere io mi hanno inculato da dietro ormai stanno catturandolo ma spero che basti per 86 secondi ma no no dai andiamo a noi non sparare tu che prendiamo noi ma perchè? dai mi hai lasciato con te basta non dovete uccidere ecco devo catturare noi qui in casa dai stiamo catturando noi siamo già al 50% eh ma di venire stavo catturando noi però eh ma zafferano che non capisci mai ma tanto catturiamo dopo fermi del non c'era non c'era ancora eh si non problema però hai capito che non c'è no 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 ahahah sai che mi conviene mettere la musica su questo fondo perciò eh ma mi sa che è un attimo giusto così l'amicizia eh si metto la musica va capito ahahah quando sta per dire ma por co tuntz tunz 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 non è persoprers numero 1 ahahah ma por co tuntz tunz 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 dull switch ahahah per cazzo barca per amata da cacare va il carattolo di merda che suoi che facendo diciotto dieci il suo lavoro con la poppisa in testa pochi di occhiale ecco lì ma adesso ci vuole vent'anni arrivare al punto la musica ci vuole sì il mio amore il mio amore il mio amore e in testa anche con uno ti ha lasciato si è un merda eh ma che tu che ti clochi eh vabbè scusa che cazzo vuol dire eh è che tu che ti clochi eh è quello rispondendo eh no però dai che cazzo minchia oh ma vado a giocare mirando stai mirando ma che stai mirando ando ma magari mi rasse stai mirando vedi il fucile tirato su bastarda non sei usci ma va a cagare pochino ma con 10 to bastardo non da alcuni pugni i 10 e il 90 agli ho tolto io ti credo che stai mirando eh ma c'è tu che credo bravo 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 ma 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 ti fa merda ahahah si 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 e qua e qua ci sarà la musica pesante attenzione che fu e cosa ha fatto il secondo headshot di fila no cry e qua ci sarà dubstep no pop ma porco tbu tb choo tt. tb cco tb mi guarda c'è un glocchino attento madonna 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 l'uomo il sito o procedere postare il video originale per te che ricomincia non muori però è 90 la seconda volta per l'acqua e che è quella parte papà a fare no si è lasciato con 31 maledetto mi piace non mi piace minchia Jackie cazzo è fatta col cuore cosa sono ultimo what a fuck what a fuck io non mi fido no i binari visto che emozione no ma li tolgo il 90 ma è la terza volta via 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 che sta scappando riderei di chi ride riderei di chi ride c'è con questo è una merda c'è un'altra cosa dobbiamo catturare riva ok fateli catturare ok ditelo a zio per favore e frego porco dio se mi spari ma perchè c'è la moglie e devo andare a catturare uomo di merda ma 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 200 io e sicuramente esercizio città per per catturare appunto per il caldo per il caldo e per favore uscite uscite dal punto di catturare questa volta c'è il canto la gang bag ahahah trisomana, ragazzi no comunque trisomana comunque il video originale ce lo devi postare su google drive io adesso ne calco una volta originale senza metterlo in pubblico una volta con la musica oh ho uscito al punto cazzafat catturato mi sparo in bocca no legge che non ha il cazzo da fare c'è c'è che c'è un attacco epiletico e anche a babu paolo per me la città lo merita di per me per tutto il fai c'è quello da tutto sommato ci vediamo no perchè l'hai mazzoggio no ecco un uomo fa culo panchulo un po' il bastardo vai vai ragazzi non trattenevi devi tanto metto la musica proprio per voi lo tengo si no no lo devi impostare su google drive per forza eh ce lo voglio questo questo qua lo carriamo tutta una volta comeee ma perchè io li lascio sempre tutti quanti con uno io non me lo spiego cacchio dove sta lupido destra l'arma l'arma non esista non ci sono più ma scusa ma ragazza oh che cazzo dai con un pago bravo ma bu nooo minchia minchia nooo minchia 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 ma tu fa ma tu fa ma tu fa poticare nel 3 su gioco beh noi veramente stiamo facendo clan match ma che cazzo mi hai scelto 25 colpi minchia ma che cazzo vuoi che ti dic so zmi il